Buongiorno e bentrovati! Come avrete visto dal titolo del video parleremo ancora di 8, però lo andremo a vedere nei minimi dettagli, visto e considerato che è un esercizio che è presente in molte audizioni, fra l'altro anche nella prima dell'esame dei livelli, andiamo a vedere un attimo come costruirlo bene e soprattutto, visto e considerato che negli ultimi tempi in tanti mi hanno chiesto, nonostante che abbia già fatto un paio di video su questo argomento, delucidazioni, ho pensato appunto di riprendere un attimino in mano e vedere se dichiari alcuni punti. L'altra cosa importante che c'è da dire della figura 8 è che, proprio perché è costruita, basandosi fondamentalmente su tutti e sette i giochi, può essere anche utilizzata per fare un test prima di salire a cavallo. Prima di salire a cavallo io faccio la figura 8 con il mio cavallo e da lì mi rendo subito conto il suo stato d'animo, se è connesso con me, se risponde o reagisce alle mie richieste e quindi la qualità delle risposte che mi possa aspettare poi da sella. Chiaramente su questo argomento ci ho fatto già anche altri video, il riscaldamento da terra prima di salire può essere fatto anche in 5 minuti, la figura 8 rientra tra le cose che io posso fare in questi 5 minuti. Prima di salire poi è bene anche fare altre cose, però ne ho già parlato in un altro video, magari ve lo metto qua alla vostra destra, così poi lo andate anche a vedere. Cosa importante, guardate il video fino alla fine perché alla fine vi faccio vedere una maniera alternativa con cui possiamo fare la figura 8 più divertente e anche un pochino più sfidante per noi, per quelli che sono un pochino più bravini sicuramente la troveranno interessante, quindi guardate il video fino alla fine. E se vi piacciono questi video qua mettete un like sulla fiducia a questo punto perché sta per iniziare, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se non sei iscritto sul canale o è la prima volta che approdi su questo canale, sappi che io mi chiamo Sergio Matteoni come l'avete visto dal nome del canale e sono un istruttore parelli certificato. Quello che noi facciamo vedere in questo canale qua è una miriade di cose, parliamo di comunicazione con i cavalli, comunicazione fatta ovviamente per raggiungere gli stessi livelli degli altri tipi di equitazione, però noi usiamo l'equitazione naturale. Andiamo avanti, abbiamo messo due marker, in questo caso sono due barili, perché così si vedano meglio in video, potete farlo anche con due birilli, due sedie, qualcosa, ok? Meglio se stanno fermi, nel senso se non è qualcosa che se il cavallo sfiora cominciano a muoversi, no? Mi sono messo anche due guanti belli arancioni, così vedete come mi muovo con le mani, cercherò di farlo comunque piano piano e di spiegarvi tutto nel dettaglio. La figura 8, diciamo, è una figura complessa perché all'interno abbiamo tutte e sette i giochi. Guardiamo un attimo quali sono. Io mi posiziono qui. Allora, com'è che io mi devo posizionare? Questo ho notato che molte persone non l'hanno ancora ben chiaro, nonostante che facciano la figura 8 non hanno ben chiaro dove si devono mettere. Si devono mettere, come ad esempio in questo caso qua abbiamo i barili che sono a circa 4 metri di distanza l'uno dall'altro, la persona si deve mettere dalla parte di qua dei barili e il cavallo deve stare dalla parte di là dei barili, ok? E questo, e la persona non andrà mai dalla parte di là, perché a volte ho visto persone che iniziano a fare l'otto, poi alla fine loro si ritrovano di là, il cavallo dalla parte di qua. No, questa è la mia zona, io posso arrivare al massimo fino qui, non posso andare oltre, ok? Altra cosa importante, nella figura 8 noi ci muoviamo prevalentemente avanti e dietro, ok? Andiamo avanti e indietro, avanti e indietro, quindi non andiamo a spasso, non andiamo di là, non andiamo di là. Ma questo lo possiamo fare a un cavallo che giusto non sa fare niente le prime 2-3 volte un po' per accompagnarlo. Ma poi dobbiamo cominciare a capire che noi dobbiamo andare in su e in giù su questo binario. Il cavallo sta dalla parte di là quando parte, quanto sta dalla parte di là? Allora, consideriamo una distanza come questa di 4 metri, ma può essere fatto anche in base alla lunghezza della corda, può essere fatto anche a 7 metri, può essere fatto anche a 8 metri, 10 metri, ok? Dipende dalla corda che ho in mano. In questo caso ho una corda da 7 metri, ma la userò come se fosse una corda più piccola, da 3,70 metri. Quindi i barili in questo momento sono all'incirca intorno ai 4 metri, non lo misurate col centimetro, ma vedrete che più o meno siamo lì. Allora, com'è che funziona tutto? Io mando il cavallo indietro, questo l'ho già fatto vedere anche in un altro video, abbastanza da poter, al momento che lo invio nel circolo, che venga più facile, no per il cavallo? Perché più in là è, più mi viene facile mandarlo oltre questo marker, o questo marker a seconda, da dove parto. Quindi cos'è che io ho fatto? Ho fatto yo-yo, ho fatto la prima parte dello yo-yo, che è il gioco numero 4. Quindi vedete già che abbiamo uno dei 7 giochi qua nel mezzo, no? Quindi mando il cavallo ancora un pochino indietro per aiutarlo un po' a sbagliare meno. Ah, per chi non lo conoscesse, lui è Garion. Lui è un cavallo di una nostra amica che ci ha mandato qua in attesa che arrivi anche lei per lavorare un po' su alcune cose. Cosa faccio a questo punto? Invio il cavallo, quindi faccio l'invio come nel circolo, ok? Quindi apro, posiziono la gamba ore 8, apro, indico, fase 1, 2, 3, mando il cavallo di là. Guardo oltre, perché se guardo il barile lui mette il naso sul barile, apro e faccio andare il cavallo dentro. Cosa vuol dire apro? Vuol dire che io creo una strettoia qua nel mezzo, vedete? Apro la strettoia, prima era piccola perché ero là, adesso è più grande perché mi sono spostato indietro. Vedete la strettoia qual è? Tra il marker, quindi tra il barile in questo caso, e me. Quindi cosa faccio? Mando il cavallo, indico al cavallo di andare nel centro, controllo, e questi sono passi laterali, vedete? Quindi lì ci abbiamo avuto la strettoia, qui passi laterali. Lo invio dalla parte di qua, riapro la strettoia, indico e aspetto che lui vada di nuovo verso il centro, ok? Lo accompagno, quando è che inizia a muovermi in avanti? Inizia a muovermi in avanti quando ho la sua spalla qui. Non prima, perché altrimenti lo blocco, gli chiudo la porta in faccia della strettoia, apro la strettoia, indico verso il centro, chiedo al cavallo di spostare bene le spalle, se ho bisogno faccio passi laterali, e lo rimando di nuovo qua. E quindi poi dopo lo rinvio di nuovo nel centro, come on, lo rinvio di nuovo nel centro, quando arriva qui chiedo il disimpegno del posteriore, e di nuovo lo rimando indietro. Quindi ogni volta che interagisco con lui usando la corda è porco spino, ogni volta che interagisco con lui usando lo stick da lontano, come ho fatto ora per chiedere il disimpegno, è gioco di guida, ok? E quando mi fermo qui nel mezzo e lo lascio stare, lo lascio rilassare, è gioco d'amici. Quindi come vedete ci sono tutti i giochi qua dentro, tutti, dal primo all'ultimo. Essendoci tutti e sette giochi, questo esercizio è fondamentale, è uno delle figure più importanti, perché mi dà immediatamente, senza tanti fronzoli, mi dà la possibilità di capire un attimo il cavallo che ho davanti. Mi ascolta, non mi ascolta, è connesso con me, mi corre via oppure no. Se andate a prendere anche gli altri, con questo sono tre video sulla figura 8, se andate a prendere gli altri vedrete che spiego anche cosa fare se il cavallo fugge via dietro. Una strategia che potete usare, ovviamente, se avete un cavallo che tende a tirarvi tanto sulla corda e fuggire via dietro, è dietro mettervi la recinzione, ovviamente. Però queste sono tutte cose che rientrano nella gestione dei problemi. Ma quello che mi interessava di farvi vedere è quanto è importante e quanto io posso capire semplicemente usando la figura 8 come test. La figura 8 è nel primo livello. Se vi portano un cavallo e vi dicano, ah, questo qui sa legge e scrive, chiedete la figura 8 e questo non la sa fare, e vi dite, ma questo sa legge e scrive, un tubo sa legge e scrive. Perché nella figura 8 c'è le risposte alle richieste di cessione alle pressioni di tutti i tipi. Quindi è fondamentale che il cavallo questa roba qua la sappia fare. Ora, io non dico che la sappia fare al trotto, ma questo si può fare al trotto, magari allargando un pochino gli spazi. Si può fare anche al galoppo con una corda da 14 metri, si mette i barili a una distanza di 8-10 e poi dopo si fa al galoppo con il cambio di galoppo al volo nel mezzo. Scrivete, se volete, un video dove vi faccio vedere come si fa la figurotta al galoppo. Quindi, questo è l'ABC. Se non c'avete questo, non c'avete il cavallo. Se non c'avete questo, non c'avete il cavallo. Da qui parte tutto. Questo è come se fosse, bene, adesso ho capito un po' come funzionano i sette giochi. Bene, fammelo vedere. Tieni, questo è il cavallo. Fammi vedere se ti riesce a fargli fare la figura 8. Se non ti riesce vuol dire che hai capito poco di come funzionano i sette giochi. Dici, ma questo cavallo non lo sa fare. Questo sì, questo ha già passato il livello 1, questo lo sa fare. Però non è così. Un cavallo, anche un cavallo qualsiasi, in mano a una persona che ha esperienza e un po' di manualità con l'attrezzatura e con la comunicazione, glielo fa fare dopo due nanosecondi. Al passa questa maniera sto parlando. Poi ovviamente se si parla al trotto, se si parla al galoppo, è un altro discorso perché si deve mettere in campo anche una collaborazione. Non è più solo una comunicazione, ma ci deve essere il cavallo che conosce lo schema e che riesce a mantenere la sua responsabilità qualora io gli vada a chiedere di entrare dentro. No, perché la difficoltà più grande è quando io chiedo al cavallo di entrare dentro. Se il cavallo non sa, non capisce, non realizza che deve fare questa figura, è facile che invece di entrarmi dentro mi vada via. Quella roba io non ce la posso avere se sto facendo l'esercizio al trotto al galoppo. perché è ovvio, mi tocca andare a controllare. Quindi esco fuori da quella che è la comunicazione e entro in quello che è l'ambito del controllo. Però controllo è un'altra cosa, non è comunicazione. Comunicazione è io che faccio una fase 1, una fase 2. Quindi ricordatevi sempre che la scaletta delle fasi è fase 1-2, è mentale, fase 3-4 è fisica. Quindi quando è che io posso andare al trotto in un esercizio come questo, testare, provare a andare al trotto? Quando ho il cavallo che mi risponde in fase 1-2. Ricordatevi che la fase 1-2, nella parte più complicata dell'esercizio, è questa. Cioè questa è la mia fase 1, questa è la mia fase 2. Se il cavallo non entra, come fa lui, che ha bisogno di un aiutino, è chiaro che io se glielo vado a far fare al trotto posso trovare delle piccole difficoltà. Magari non grandissime, però le posso trovare. Vedete? Apro, chiedo, vedete da questa parte è andato molto meglio, però da questa parte tende a non cedere bene quando si passa dal centro. Chiedo e mi tocca accompagnarlo un po' con lo stick e poi andare a chiedere il disimpegno. Quando è che comincia ad andare bene? Quando io vado indietro e lui guarda il centro, lui ancora non lo sa fare, però diamogli un'altra chance. Quindi vado, mando là, apro bene, indico e allora a questo punto mando là, usando corda, stick, tutto e lo fermo. Questo è il concetto di Happy Place che ho ripreso in quell'altro video che vi lascio qua in descrizione, dove sempre sulla figura 8 spiego qual è la strategia dell'Happy Place da applicare in questo contesto per far sì che il cavallo desideri da matti andare là. Sono tutte cose relativamente semplici, però vorrei che per coloro che gli interessa questo canale, che seguono queste mini lezioni, che hanno voglia di andare avanti nel programma, ma anche per coloro che vogliono trovare un sistema per testare, fare un check del proprio cavallo prima di salire e andare in passeggiata, ecco, vorrei che sperimentaste un po' e che provaste a realizzare una cosa che assomiglia un po' a quella che avete visto nel video. E adesso vi lascio invece al bonus che vi avevo promesso. Noi ci vediamo nel prossimo video. 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 Noi ci vediamo nel prossimo video.